oramai i video del canale sono diventati argomento diffuso ed abituale di discussione con i miei clienti e l'altro giorno sono andato da uno di loro che mi ha chiesto ma come mai dobbiamo sempre accettare ed essere soggetti passivamente a tutto quanto quello che google ci impone e gli ho spiegato che no non è così nel senso che noi possiamo scegliere quali cookies accettare ma non possiamo in alcuni casi rifiutare determinati contratti che google ci propone perché sono di fatto la sua licenza d'uso gli ho spiegato anche che è tuttavia possibile difendersi in seconda battuta da eventuali invasioni della nostra privacy perpetrate da google e lui mi ha detto ma questo non lo hai mai spiegato sul canale e no effettivamente non l'ho mai spiegato sul canale ma adesso andiamo a rimediare e ringraziamo il signor fausto per la sua segnalazione ti senti pronto iniziamo per andare a verificare quali dati google ha raccolto su di noi evitarne la raccolta futura ed andare anche ad eliminarli devi passare attraverso un browser google chrome quindi se per caso non ce l'hai ti consiglio di procurartelo naturalmente quello che ti spiegherò vale per i dati raccolti tramite il tuo account google ma parliamoci chiaro chiunque utilizzi youtube chiunque abbia un telefono android e così via sicuramente dispone di un account di questo tipo quindi lavoreremo direttamente sul tuo account gmail andiamo ad aprire google chrome ed una volta aperto portiamoci in alto a destra e assicuriamoci di aver effettuato l'accesso dopodiché clicchiamo sulla nostra immagine in alto a destra e successivamente apriamo il pulsante che dice gestisci il tuo account google ci ritroveremo in questa pagina qui sul lato sinistro andiamo ad individuare la voce dati e privacy e facciamoci clic su nella pagina che si aprirà scendiamo in basso fino ad individuare la voce che si chiama attività che hai svolto e luoghi che hai visitato vedrai che ci saranno tre voci che ti riguardano la prima è attività web e app questa voce raccoglie informazioni su tutte le app che hai installato tramite l'account google e tutto quello che hai visitato sul web una sorta di cronologia condivisa una seconda cronologia riguarda le posizioni cioè google sa dove ti sposti dove vai come ti muovi e anche come lo fai la terza riguarda la cronologia di youtube e quindi i video come questo che tu vai a guardare andiamo quindi a vedere come disabilitare ciascuna di queste tre voci partiamo dalla prima in alto attività web ed app portiamoci sulla frecciolina sul lato destro questa qui e facciamoci clic nella voce che si apre andiamo ad individuare questo pulsante che dice disattiva ma anziché cliccarci su scegliamo la frecciolina a discesa e scegliamo la seconda voce quella che dice disattiva ed elimina l'attività in questo modo elimineremo tutti i dati raccolti fino ad ora su di noi da parte di google e disattiveremo la raccolta di dati futuri di questo genere clicchiamoci e vediamo che ci si apre una finestra che ci invita eventualmente a riattivarla scegliamo avanti e assicuriamoci che siano selezionate tutte quante le voci a questo punto ancora una volta clicchiamo su avanti infine clicchiamo sul pulsante elimina fatto questo potremo cliccare su ok per chiudere la finestra tornare indietro tramite questo pulsante in alto a sinistra ed andare ad individuare la seconda voce quella relativa alla cronologia delle posizioni clicchiamo ancora una volta su questo pulsantino sul lato destro e nuovamente andiamo a cliccare sul triangolino eventualmente individuando se è disponibile sul nostro account il disattiva ed elimina l'attività sul mio account non era attiva a priori ma sul tuo potrebbe esserlo se lo è clicca sulla seconda nel caso in cui non lo sia clicca semplicemente sulla prima come nel caso precedente nuovamente ci viene detto che la cronologia delle nostre posizioni non è attiva facciamo clic sul pulsante ok in basso a destra e torniamo ancora una volta indietro con la freccia in alto a sinistra individuiamo adesso l'ultima voce quella relativa la cronologia di youtube e nuovamente facciamo clic su questo pulsante in questo caso non ci sarà possibilità di scelta potremmo solo cliccare sul pulsante disattiva facciamolo clicchiamo su sospendi in basso a destra e scegliamo la voce elimina l'attività passata prima di fare clic su ok scegliamo la voce dall'inizio e infine clicchiamo sul pulsante elimina quello in basso a destra nuovamente clicchiamo su ok per chiudere questa finestra e torniamo infine indietro con la frecciolina in alto a sinistra assicuriamoci che tutte e tre queste voci risultino in pausa e avremo completato il nostro lavoro come vedi è un gioco da ragazzi eliminare la cronologia di tutti quanti i dati che google nel tempo ha raccolto su di noi ivi ricompresi come hai appena visto tutti quanti i dati pregressi relativi naturalmente all'account su cui stai operando quindi naturalmente se dovessi disporre di più account google questa operazione andrà ripetuta su ciascuno di essi se compirai questa operazione esattamente come ti ho mostrato in questo video inoltre inibirai tutta quanta la raccolta dei dati futuri da parte di google oltre alla mia personale gratitudine i ringraziamenti di tutta la community vanno quest'oggi a Mirko e Stefano Petrolini per i loro super grazie vi ringrazio infinitamente perché siete veramente due colonne portanti di questo canale e prima di concludere una comunicazione di servizio di cui mi vergogno anche un po' già da un po' di tempo una emittente locale ligure che risponde al nome di Entella TV grazie al giornalista Franco Ricciardi ha iniziato a proporre nel suo palinsesto alcuni dei miei video quindi se sei in una delle zone coperte da questa emittente e ti fa piacere vedere la mia brutta faccia anche fuori da youtube puoi andare su quel canale e guardare la mia trasmissione ma come di consueto un video non può dirsi completo se non faccio un ultimo importantissimo ringraziamento la persona da ringraziare sei proprio tu che mi hai fatto compagnia ancora una volta nel corso di questo video e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima grazie a tutti